Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve. Oggi vedremo un'applicazione particolare dei Fairlight FX. Parleremo di Noise Reduction, riduzione del rumore audio su base traccia, quindi su un'intera traccia della timeline di Fairlight. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare, quindi il Noise Reduction su base traccia all'interno di Fairlight. Ritorniamo oggi a parlare di effetti su Fairlight, però ragionando a livello di traccia e non a livello di clip. Nel precedente tutorial abbiamo visto come andare ad applicare un Fairlight FX all'interno di una singola clip in timeline. Oggi vediamo come applicare un effetto su tutta la traccia e come riferimento prendiamo l'effetto simbolo per quanto riguarda la pulizia dell'audio, ossia la riduzione del rumore. Prendiamo questa timeline formata da poche clip dove all'inizio è presente una clip di solo rumore o quasi e poi parte un voice over. Qui c'è solamente il rumore. Poi venne ampliata man mano aggiungendo un piano allargando le ali eccetera. E anche la terza clip è data dalla stessa tipo di inquadratura con lo stesso tipo di rumore. Quindi sarebbe logico poter togliere il rumore su tutta la traccia visto che le clip sono state registrate tutte nella medesima situazione. Vediamo insieme come si fa. Apriamo l'Effect Library di Fairlight, andiamo a cercare il Noise Reduction, ci clicchiamo ed invece di trascinarlo sulla clip come abbiamo già visto, lo trasciniamo sul track header all'interno dell'intestazione della traccia. In questa maniera io applicherò il Fairlight FX a tutta la traccia Sync. Quindi lascio, si apre il pannello di settaggio del Noise Reduction, si vede già in alto che il Noise Reduction è stato inserito come slot 1, quindi come primo effetto sulla traccia Sync. Ora vediamo un po' come funziona il Noise Reduction. Guardiamo semplicemente i comandi principali, poi avremo modo di approfondire tutti i dettagli e tutti i settaggi in uno dei prossimi tutorial dove andremo ad analizzare in dettaglio i singoli effetti. Allora, il Noise Reduction funziona in due maniere, una modalità manuale e una modalità in Auto Speech Mode che funziona quando è presente un dialogo, come in questo caso. Solitamente si utilizza questo flusso di lavoro. Prima si va in manuale, poi se vediamo che in manuale non otteniamo dei risultati accettabili, passiamo in Auto Speech Mode sempre che abbiamo un dialogo presente all'interno della traccia. Proviamo a farlo in manuale. Ora, col manuale selezionato andiamo un attimo all'interno della timeline, quindi ci spostiamo un attimo il pannello e andiamo a prendere un'area dove è presente solo il rumore. Supponiamo quest'area qui, perché quest'area qui è un'area dove c'è solamente il rumore di fondo, quindi lo dobbiamo andare a campionare. Per andarlo a campionare fissiamo un Mark In e un Mark Out, quindi andiamo all'inizio della timeline, premiamo I per fissare un Mark In a livello di timeline, andiamo un po' avanti e fissiamo un Mark Out, quindi selezioniamo quest'area. Ora andiamo a dire al Noise Reduction di iniziare ad imparare, cioè di iniziare a leggere il rumore, perché tutto quello che andrò a riprodurre adesso sarà rumore audio. Quindi faccio Learn e adesso lui è in modalità di apprendimento. Ora vado a riprodurre solamente l'intervallo da Mark In e Mark Out. Abbiamo già visto che lo shortcut per farlo è Alt più Slash, quindi faccio Alt più Slash ed ecco che ho riprodotto il mio rumore. Lui ha già campionato i livelli di rumore, che sono i livelli che vediamo evidenziato in viola. A questo punto vado a togliere la selezione di Mark In e Mark Out premendo Alt e X e devo andare a dire all'effetto di Noise Reduction di andare a togliere il rumore su tutta la traccia e per dirglielo vado a cliccare su Learn. E lui in questo momento ha tolto il rumore, cioè tutto il segnale che lui aveva campionato dal di qua, dalla traccia. Man mano aggiungendo un piano, allargando le ali eccetera, i Wingfield lasciarono la tenuta. Se io prendo la zona anche del rumore che avevo campionato, questa è senza il Noise Reduction, il rumore è ben evidente, se metto il Noise Reduction il rumore è molto attenuato. Per resettare il profilo del rumore vado sul menu a tendina in alto a sinistra e vado a cliccare su Reset Noise Profile. Il rumore non ce l'ho neanche campionato. Adesso proviamo a fare l'Auto Speech. L'Auto Speech funziona tramite un algoritmo che mi permette di identificare il dialogo e tramite un'analisi spettrale mi permette di andare a identificare i profili del rumore. Quindi faccio Auto Speech, non ho bisogno di fare Learn perché viene identificato da solo. Vediamo come si comporta, mettiamo Listen to Noise Only, sentiamo come viene. Vedete la voce non c'è ma c'è tutto il rumore di fondo che viene preso. Vediamo come viene l'audio normale, togliamo il check su Listen to Noise Only. I Wingfield lasciarono la tenuta circa metà degli anni. Direi che il risultato è buono direttamente utilizzando il metodo automatico. Se vogliamo fare le cose semplici con Noise Reduction la procedura più corretta è prima proviamo in manuale, vediamo se siamo soddisfatti del risultato utilizzando un'area dove c'è solamente il rumore. Se non siamo soddisfatti o non abbiamo un'area ben definita dove poter campionare il rumore ci conviene andare in Auto Speech Mode se abbiamo un dialogo presente. Perché l'algoritmo di Resolve è in grado di identificare il dialogo e di escludere tutto quello che non c'entra col dialogo andandolo a considerare come rumore. Questo è un effetto applicato a livello di traccia. Adesso chiudiamo il pannello di controllo. Se io vado a cliccare su una clip all'interno dell'Inspector non c'è il Noise Reduction però se vado sull'intestazione della track ecco che compare il Noise Reduction. Cioè questo è un effetto che funziona su tutte le clip che sono state inserite sulla traccia a uno sync. Se hai delle domande in merito all'applicazione del Noise Reduction su una traccia della timeline di Fairlight ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video. E noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial.